Un buongiorno da Leone a tutto il popolo di YouTube, Ilionotto ci ha dato la vincita come ci attendevamo ed è una bellissima cosa, 5.60 su ruota, sulla ruota di Palermo, ancora su Palermo e che cosa dico amici miei? Sta andando veramente veramente alla grande Poi 15.51 a primo colpo di gioco, poi l'undici che ho regalato sull'altro social, Bari Napoli in posizione a primo colpo di gioco, poi Lambo 10.44, ne sono uscite addirittura due di ambe, c'è 10.44 su doppia ruota e poi nell'ambo vittorioso c'è stato 11.65, un po' figura nuova e poi c'è stata anche un'altra vincita vabbè, questa è l'estrazione è accaduto solo questa in questa estrazione, non so cosa potrebbe accadere di più Lambo che spacca, ha spaccato con 14.86 su ruota insomma, meglio di così, sinceramente, non poteva proprio amare andiamo a vedere qualche testimonianza qui abbiamo sta strumento a revisione che maga fa la posta 10.25.70.90, quartina speciale è andata proprio in mezzo a 10.44 qualcuno l'ha portato avanti, qualche altro no 10.44, questo è del giorno 31, uno scontrino, non è di adesso, questo è del 31 marzo 10.44 e quarta no ma è uscito proprio in mezzo a 70 incredibile e 10.44 anche sulla ruota di Genova allora vediamo ancora questo è stato Lambo 15.51 a primo colpo di gioco che io nel video precedente ho segnalato e a primo colpo di gioco è venuto fuori eccolo qua 15.51 un Lambo già chiamato in precedenza adesso che c'è stata di nuovo la tecnica dei numaretti lo chiamava di nuovo ed è venuto fuori e poi Lambo che spacca 14.86 qua devo coprire perché poi ancora in gioco lo stesso Ambo 14.86 ovviamente di ieri giorno 5 auguro a queste persone a quinto colpo di gioco poi farò gli ingrandimenti e rimettere qui poi ancora quindi dopo il terno delle notte precedente subito abbiamo colpito in Lambo ovvio un piccolo gruppettino abbiamo la giocata ancora su una ruota sola un po' le altre vincite in un secondo che vi posso parlare che vi ripeto il mio video bene o male sono 4-5 minuti non di più evitiamo di stancare i telespettatori le possono arrivare alle vincite del terno ma queste qua e il terno su tutte le ruote poi vediamo sempre del rianotto un po' un ottimo solo un secondo bisogna dare un'occhiata alle sestine del super galotto vabbè se è qualcosa sicuramente mi arriveranno dei messaggi quindi vi ricordo gli ovuscoli sono tutte in offerta a domani sera sperando di fare un altro bel bumbu